Questo luogo che ci ospita spiega molto bene il perché un club come Rotary, riconosciuto anche per una certa anzianità dei suoi soci, sia in un posto come questa cantina che riprende le caratteristiche architettoniche delle famose case fortezza del 4-500, seppur costruita a nuovo, una cantina che utilizza metodi tradizionali però con metodologie molto moderne e innovative e una iniziativa, quella nostra, che vuole unire le tradizioni e quelle che sono le eccellenze della gastronomia ma soprattutto dell'enologia del nostro territorio con dei linguaggi nuovi, con dei mezzi innovativi come appunto può essere quella di una web tv, un mezzo che può anche richiamare delle curiosità e noi siamo qui anche per dare delle risposte. Eno Pordenone è un movimento fra imprenditori che vogliono far emergere quello che è l'orgoglio del proprio territorio e le capacità che ha le genti di questa terra del fare. Io lo dico un orgoglio che tendenzialmente ognuno di noi tende a nascondere perché fortemente non conosce perfettamente il nostro territorio. Questa conoscenza che io cerco di far divulgare, di far arrivare a tutti i nostri compaesani per riuscire a dare un valore aggiunto a questo nostro territorio. Questo è nella sintesi Eno Pordenone e questa sera siamo nella cantina di Pittaro per vedere quanto delle cantine che mi sconosciute invece hanno delle peculiarità e degli investimenti e delle capacità che si riscoprono e possono riuscire a dare un valore aggiunto al nostro territorio. L'associazione Eno Pordenone vuole promuovere una cosa molto semplicemente che quando entra uno in un bar, in un ristorante e vuole chiedere quale vino si beve, qual è il vino della zona comincino ad offrire il vino Pordenonese, un vino che è un vino molto particolare, molto originale, poco conosciuto, molto apprezzato da chi se ne intende di vino, ma forse noi siamo poco orgogliosi di questo vino. Il numero è stato volutamente fermato per riuscire a dare compattezza al gruppo. Il fatto di riuscire ad aprirsi a tutte le cantine del territorio determina proprio l'unità negli intenti di far crescere la provincia in termini di conoscenza, in termini di capacità di produzione. Quindi il termine che abbiamo coniato, conoscersi per farsi conoscere, è proprio la base di questo concetto di allargare a tutte le cantine la possibilità di entrare in questo movimento.